E eccoci ragazzi con la terza e ultima parte. Leggiamo altre domande, vediamo un po' cosa riusciamo a spulciare. Allora, Ada Wong. Ciao Ada. In questa settimana con chi hai avuto migliore rapporto, ovviamente tra i tuoi ex con inquilini, ora che sei fuori dalla casa? Beh, Chicca e Mirko sicuramente. Ciao Ada. Allora, Samuele Bello Maranzano. Modestina, quando verrai a Palermo? Ciao Samuele, spero di venirvi a trovare tutti presto e riavbracciarvi. Francesco Faro, ti hanno ridato il pappagallo di peluche che Mirko aveva riportato in studio? Ecco, purtroppo non mi hanno ridato il pappagallo, io spero vivamente che me lo faranno avere perché sono molto affezionata a quel pappagallino. E poi Mirko me l'ha portato anche fuori, onnaggia. E questo, un attimo, un attimo. Allora, Simone Calderone. Ciao Modi, volevo sapere come vivevi le nomination, con tranquillità oppure con ansia? Beh, vivevo le nomination con tranquillità. D'altronde l'agitazione non giova a nulla. Meglio essere tranquilli e sereni e poi la vivi così, come viene? Poi era sempre una sorpresa, nomination dopo nomination, grazie a tutti di cuore veramente, grazie. Un bacio. Sonia Policastro, qual è il tuo idolo? Allora, ne avrei tanti di idoli, quindi potrei spaziare, dai ne dico tre, Anna Magnani sicuramente, Alda Merini e Ipazia d'Alessandria. Allora, Salvo Vassallo. Ciao, tornerai a trovare Chicca? La vostra non è bella amicizia? Assolutamente sì, con Chicca ormai è un'amicizia splendida, come due sorelle veramente, quindi sarà una scuola continua Sicilia e da lei, sì. Ok, qualche ringraziamento magari? Allora sì, siete stati veramente in tanti, vorrei rispondervi tutti ma mi impegnerò a farlo giorno dopo giorno e sarò sempre presente, quindi adesso mi impegnerò veramente. Vorrei dare alcuni saluti a alcune persone, ecco ne nomino alcuni, Mari Caperrone, Grazia Melani Zantonini, Francesca Piazza, ti ringrazio per gli auguri, Sebi Lupo Siberiano, Patricola, Samuele Bello Maranzano, Russo Simone, Paola Tavoletta, Danilo Rocuzzo, Salvatore Fileri, Andrea Martorana, Alessandro Bodecchi, Daniele Milton, Fede Bitello, Sonia Policastro che saluta anche mio fratello, siete tanti, tanti, tanti. Ciao piccolina. Poi vorrei dire ad una bambina veramente speciale che mi scrive sempre su Twitter, a Lucrezia, ascolta sempre papà, tutto quello che ti dice, ascolta e studia tanto, 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 impegnati. Quindi volevo anche, risponderò sempre anche su Twitter, sempre la notte perché poi con gli impegni riesco un'oretta a collegarmi lì. Comunque cercherò di essere presente e spero di non deludervi a nessuno. Vi mando un abbraccio grande, con il cuore e un bacio. Ciao.